Benvenuti in questo nuovo video di Logistics & Analytics Italia. Quest'oggi ci occuperemo delle tabelle PIVO in LibreOffice Calc. Come in tutti i fogli di calcolo, anche ad esempio in Microsoft Excel, la tabella PIVO è uno strumento che consente di estrarre dei dati da una serie storica che forse non sono stati rappresentati in maniera esplicita. Quindi la tabella PIVO è uno strumento che consente di esplicitare dei dati che sono in realtà presenti soltanto in maniera implicita. Facciamo un esempio. Io ho scelto ad esempio di cercare le classifiche degli europei di calcio del 2016 perché in questo periodo ci sono gli europei di calcio e ho scelto in un motore di ricerca il sito ufficiale per esempio della UEFA CAP dove ci sono tutte le classifiche per gironi. Quindi queste sono in definitiva delle serie storiche. Cerchiamo ad esempio la serie storica riguardo al girone dove è presente l'Italia. vedete questa che cos'è? Una tabella in realtà è un database quindi è un'entità che può essere esaminata all'interno di un foglio di calcolo sia il LibreOffice Calc che il Microsoft Office Excel. Come vedete c'è tutta una serie di dati, le partite giocate, quelle vinte, quelle pareggiate, quelle perse e poi ci sono i punti. ma c'è ad esempio un dato, facciamo un esempio molto semplice, questi video tutorial presentano degli esempi molto semplici un dato che è implicito, cioè il numero dei punti totali che è stato assegnato e la percentuale dei punti ottenuta per squadra. Vedete qui c'è, ma è implicito, bisogna fare 6 più 3 più 1 più 1 per sapere quanti punti sono stati assegnati. Allora, estraiamo questa serie storica, importiamola in LibreOffice Calc e vediamo come con lo strumento tabella PV si possono esplicitare dei dati che sono solo presenti in forma implicita. Selezioniamo questa tabella con il tasto sinistro del mouse, premiamo, manteniamo premuto e facciamo un trascinamento. facciamo con la tastiera CTRL C oppure tasto destro del mouse e facciamo copia. Andiamo all'interno del nostro foglio di calcolo, selezioniamo una cella, tasto destro, incolla. Diciamo gli ok e vedete che la nostra serie storica degli europei è stata a tutti gli effetti incollata all'interno del nostro foglio di calcolo. stringiamo un po' per consentire, ecco, di occupare meno spazio possibile di modo che il foglio sia più visibile. E, vedete, non ha una formattazione grafica molto precisa, ma noi ce ne disinteressiamo perché oggi ci occupiamo soltanto dello strumento tabella PV e non della formattazione grafica. Come vedete ci sono tutti questi dati, noi vogliamo sapere quanti punti in totale sono stati assegnati all'interno del geronidi e quale percentuale di punti ogni squadra ha ottenuto. Vedete che questa informazione, pur essendo presente qui, non è esplicitata. Cioè 6 più 3 è 9, più una 10, più una 11, questo dato, il numero 11, non è presente. Per fare una tabella PV bisogna selezionare accuratamente la parte della nostra serie storica, poi andare all'interno del menu, inserisce, fare tabella PV. Qui iniziano un pochino le difficoltà perché bisogna decidere quali di queste entità devono entrare all'interno di questi campi. I dati devono andare per colonna perché io voglio che vengano presentati in maniera verticale. Ovviamente a sinistra io voglio, cioè come etichette di riga, io voglio i nomi dei team. Facciamo così, siccome non c'è l'etichetta scriviamola qui noi, team. No? Allora, riselezioniamo, andiamo in inserisci, tabella PV solo per maggior chiarezza. I dati sono stati messi automaticamente da LibreOffice Calc all'interno del campo colonne. All'interno noi invece del campo righe mettiamo team. Nei campo dati che cosa dobbiamo fare? La nostra analisi vuole esplicitare un certo andamento statistico dell'elemento punti. Allora noi mettiamo l'entità point. Facciamo che? Vediamo che cosa succede. Prima diciamogli, guardate, origine e destinazione. Se selezioniamo il campo selezione diciamogli che lo vogliamo che questa tabella, questa tabella PV noi la vogliamo all'interno dello stesso voglio per fare un'analisi contemporanea, non in un foglio nuovo. Quindi ho selezionato selezione e gli ho detto guarda, mettimelo all'interno del foglio 1 nel campo A8. Facciamo ok e vedete che la tabella team PV costituisce una estrazione di dati ed un'analisi da una serie storica già presente. Adesso vedete che già automaticamente è presente la somma dei punti assegnati nel girone che è 11. Vedete questo dato era implicitamente presente all'interno della tabella della UEFA CAP, ma non era esplicito. Noi già l'abbiamo creato esplicitamente. Ma noi volevamo sapere addirittura la percentuale di punti assegnati ad ogni team. Facciamo tasto destro, facciamo modifica e layout che significa modifica la tabella PV. E la cosa interessante di questi strumenti, questo funziona esattamente in tutti i fogli di calcolo, sia in LibreOffice Calc che in Microsoft Excel, che noi la stessa entità punti la possiamo replicare due volte all'interno del campo dati. Perché questa volta, se noi doppio clicchiamo, vogliamo dirgli che la somma dei dati non mi deve apparire in maniera normale, ma mi deve apparire come percentuale del totale, cioè il percentuale degli 11 punti assegnati. Se noi facciamo ok, vediamo che adesso la nostra tabella PV ha, per esempio, ha 5 righe, perché 4 sono i team e 1 è il risultato, e 2 colonne, di cui la prima è la somma punti esplicitata in maniera normale. La seconda in maniera percentuale, da qui si evince adesso finalmente in maniera statistica, per esempio, che l'Italia ha ottenuto il 54,55% dei voti, mentre il Belgio il 27. Ripetiamo che cos'è una tabella PV, è uno strumento che consente di fare delle analisi di una serie storica di dati, scegliendo soltanto un angolo, diciamo un punto di vista. Noi l'abbiamo progettata così, per colonne abbiamo messo i dati, che sono i punti. Nelle etichette delle righe ci abbiamo messo i nomi dei paesi, delle nazionali ovviamente, e all'interno del campo dati noi abbiamo replicato due volte la somma dei punti, una in maniera normale, vedete il valore visualizzato normale, e una, doppio clic, in maniera invece percentuale del totale. Questa è la maniera, diciamo, più semplice per spiegare come funziona la tabella PV. Potremmo anche fare una cosa simpatica, selezionare questo campo che abbiamo esplicitato, abbiamo detto che nella serie storica originale questa informazione non c'era, l'abbiamo estratta con la tabella PV. Potremmo andare su formattazione, formattazione condizionata, fare barra dati e dirgli automatico, vediamo che cosa succede. Se noi diamo barra dati automatico, e vedete in questa maniera con la barra dati è ancora più esplicitato il fatto che lì l'Italia si è assegnata la maggior parte dei punti concessi all'interno di quel girone. Vedete, quindi noi nella serie storica originale estratta da un sito web non avevamo l'indicazione 11 che era la somma, ma non avevamo neanche assolutamente la indicazione della percentuale di punti ottenuta da ogni squadra. Quindi che cos'è la tabella PV? È uno strumento che consente di estrarre, di esplicitare dei dati con un certo angolo, con un certo approccio nella nostra analisi da una serie storica che invece questa informazione la contiene in maniera implicita. Grazie di aver seguito questo video e al prossimo video di Logistics & Analytics Italia. Grazie.